Maestro, non l'abbiamo provato, perché l'abbiamo provato noi, perché stiamo qua a contare le macchie sui jaguari Ma spiega perché ci chiamiamo Jaguaros, è vero, è vero, è vero, però Perché? L'ho dato io il nome, Jaguaros, perché si ispira All'inizio doveva essere un complesso dove io ero il cantante che si chiama Nino Jaguaro e la sua band Però poi abbiamo capito che eravamo in tre, quindi abbiamo fatto i Jaguaros I, no, los Jaguaros, i Jaguaros E anche perché ci, insomma, per omaggiare Django Reinhardt, quindi Djagua, Django Reinhardt Gianguaro, va bene? Facce le punizioni Va bene? Se volete vi posso dare una apprezzione di questa Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Certo, c'è? Sì, Wilson, non so No, no, direttamente con te No, no, direttamente con te 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 No, direttamente con te